Ciao ragazzi, bentornati nel mio laboratorio. In questo video parliamo un po' di ventole radiali, come vedete mi sono messo a giocare, a fare un po' di esperimenti. Nello specifico vi mostro questa mia idea, che è un nuovo concetto di ventola radiale. Dico nuovo concetto perché ho guardato in giro e non c'è niente di simile. E si è rivelato veramente efficiente dal punto di vista della compressione dell'aria. Ora, il tutto è nato perché avevo bisogno di fare una ventola di aereazione per il locale caldaia di mia madre. e quindi ho fatto questa, una ventola da tubo, che è giusto così, che praticamente mi arriva a sostituire questa roba qua. Allora, questo adattatore l'ho fatto prima che avessi la stampante 3D. infatti, originariamente c'era questo adattatore con questo ventolone, per riuscire a buttare fuori l'aria. Dopo questo ventolone si sono rovinati i cuscinetti, è iniziato a fischiare e quindi l'ho sostituito con il mio adattatore che aumenta la pressione statica e una ventola meno potente. e ottenevo lo stesso risultato. Questo blocco qua è praticamente questo adattatore qua. Per chi non lo conosce, tra le schede vi metto il link ai video di questo. E niente, adesso tutta sta roba qua viene sostituita da questa cosa qua. Diciamo c'è stato un notevole miglioramento. Ma vediamo un attimo più nel dettaglio la ventola. Ora, questa l'ho pensata per buttare aria dentro il PC. Quindi qua volevo farci un adattatore per un filtro antipolvere e quindi buttare dentro aria nel PC e creare un ambiente senza polvere all'interno del PC. In ogni caso, se avete visto il video dell'Overcraft Test vedete la potenza che riesce a sviluppare come pressione e quindi anche come aspirazione una ventola modificata in questa maniera. ovviamente per ottenere i risultati che vedete in quel video che vi metto tra le schede dovete avere una ventola con una potenza equivalente. Questa è una ventola da 6 Watt Questa qua è una ventola che in origine gira intorno ai 1700 giri e produce un grosso volume di aria Ora, una volta modificata la ventola ha un aumento di giri perché fa meno fatica e quindi questa da 1700 giri va a 2100 abbondanti Ora, il flusso d'aria inevitabilmente è dimezzato perché l'aria di pescaggio di questa ventola è la metà di questa quindi inevitabilmente il flusso d'aria è dimezzato però il notevole incremento di pressione è veramente incredibile Qui vedete qua ho fatto vari prototipi prima di arrivare a una cosa funzionante così Comunque, concettualmente aspiro l'aria l'aria lateralmente e poi la curva di 90 gradi ma continuando a spingerla Allora, in linea per farvi capire ogni volta che l'aria fa una curva di 90 gradi aumenta di pressione cioè, allora, se voi avete un tubo lungo un metro vi serve una pressione X per far uscire l'aria se il tubo l'ho piegata a 90 gradi vi serve una pressione X più qualcosa se no, l'aria non esce più Ora, questo cambio di angolo dell'aria viene fatto sotto spinta non in maniera passiva come negli altri sistemi e quindi dà ulteriore vantaggio In più, le ventole radiali Allora, la ventola radiale, tipo questa ha una zona morta in questa zona qua questa parte di ventola non produce aria né pressione è una zona morta quella chiusa mentre in una ventola di questo tipo non ci sono zone morte perché è evidente allora, abbiamo già un vantaggio per il fatto che usiamo tutta la ventola invece che solo una parte in più, con il cambio di angolo se vedete qui l'aria nel tornare indietro più facilmente può uscire dalla ventola mentre da qua deve fare un cambio d'angolo e quindi fa più fatica a tornare indietro e questo è quello che produce la maggiore pressione a parità di giri e di grandezza dell'aria di pescaggio dell'aria ora qua sto preparando un kit di upgrade per poterlo adattare a varie dimensioni del motore siccome le ventole hanno tutte una sua dimensione motore ho qua un po' di campioni e quindi sto mettendo insieme questo kit di upgrade che si può adattare a varie tipologie di motore e poi lo pubblico insieme al video per il montaggio che altro dire sto già facendo delle prove per vedere una conversione di queste ventoline che girano a 6.000 giri per cui vedere se si tiene qualcosa di interessante con una conversione e poi stavo valutando l'ipotesi di farne una da collegare a un motore brushless dei radiomodelli per vedere con un motore che ha qualche centinaio di watt cosa riesce a produrre ma quello vediamo anche perché dovrei stamparla quanto meno in nylon per poterla usare con un motore di questo tipo se no si esplode vabbè vedremo insomma diciamo che sto valutando l'ipotesi di fare qualcosa per fare un modellino di overcraft me la faccio sentire cioè quando arrivate a questa altezza inizia a perdere peso cioè talmente è la spinta il vantaggio dell'eventolo è così è che allora parliamoci chiaro a prescindere questa che butta fuori un casino ma anche se girasse più piano e quindi farebbe meno rumore il vantaggio è che hanno un'area di pescaggio che se voi tipo le mettete vicino a un muro basta che le lasciate un centimetro e loro pescano tranquillamente l'aria una ventola così messa davanti davanti a un muro già a questa distanza inizia a perdere il pescaggio perché questa gira molto veloce quindi più la ventola gira veloce più questa distanza di pescaggio diventa grande quindi per questo video è tutto ci vediamo al prossimo e vediamo cos'altro tiro fuori sperimentando con questo tipo di di girante ciao alla prossima ah anzi buone feste a tutti